Siamo con Alessandra in campeggio, vediamo le soluzioni trovate per il campeggio Allora abbiamo qua la confezione per lago bro con la sua relativa molletta vedete qui c'è la molletta per attaccarla dovunque con questa molletta io le attacco ai pantaloni quindi dietro ha gli spuntini a base di frutta secca non è che la deve mangiare tutto però la mangia, la può pure offrire dopodiché legato alla corda c'è il cellulare il cellulare lo può mettere nella tasca dei pantaloni il cellulare lo può utilizzare come walkie talkie all'interno del campeggio se voglio sapere dove si trova Alessandro io glielo chiedo Alessandro dove ti trovi? io mi trovo a casa perfetto e in questo modo Alessandro mi può sentire e mi può rispondere come se fosse un walkie talkie la cosa bella è che il telefono parla proprio non è che squille e dice come whatsapp e poi tu ascolti ti dici direttamente ad esempio io gli posso dire Alessandro mi fai il glimp per favore? e questo gli dice in tempo reale quindi Alessandro anche senza bisogno di rispondermi va su glimp prende e si fa glimp te l'ha fatto? te l'ha funzionato? mi sa che non ha funzionato allora il bro ancora 95 ha detto quindi avendo detto 95 vediamo io so eccolo qua vedete è in discesa perfetto adesso in discesa leggera e quindi si sta per fermare perfetto se stavi da solo e non c'avevi intanto metti intanto per cominciare avresti dovuto mangiarti un pochettino mangiate qualcosa va bene vai a mangiare il crecherino oh aspetta aspetta saluta Alessandro ciao ragazzi mi mangio una fetta di pane con un crecherino e si e poi inizia la cena ciao ragazzi